Volevo dare un'informazione sull'evento di questi due giorni 7-8 luglio del 2021 che vorrebbe riunire tutte le informazioni riguardanti la tecnologia della verniciatura in solo brevissimo tempo, intanto è vero che abbiamo organizzato 8 convegni che trattano tutto il sapere della verniciatura contrariamente alle manifestazioni tradizionali per esempio che sono le fiere oppure i singoli convegni proprio per informare generalmente in brevissimo tempo su tutta la tecnologia della verniciatura che è un'operazione come voi sapete molto complessa. In questo caso la manifestazione è nata presso il Museo della Scienza e della Tecnologia non a caso riguardante la tecnologia della verniciatura.